In questo video voglio spiegarti perché lo attiri quando te ne vai. Prima però iscriviti al mio canale YouTube Massimo Termasco, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, e iscriviti anche al mio canale Felicità Benessere. Ti ricordo che il 24 settembre alle ore 20.30 farò sul canale Felicità Benessere un seminario online, quindi per partecipare devi abbonarti a Seminario Online, se tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e poi abbonati a Seminario Online, e ti ricordo che proprio su questo canale avrai la possibilità col Seminario Online di scoprire il tuo imprinting, scoprire la tua tipologia emotiva e superare lo stesso imprinting e utilizzarlo per sedurre. Allora, intanto perché? Attiri, perché lo attiri quando te ne vai. Allora, cerchiamo di affrontare questo tema. Perché ogni volta che ti allontani da qualcuno che non vuole impegnarsi o che sta magari giocando con te, quello che otterrai è attirarlo. Come mai? Perché capita questo? Allora, intanto capita per un motivo fondamentale, che gli esseri umani hanno bisogno di desiderare. L'antiseduzione per eccellenza è far coincidere il desiderio col possesso. Cioè io voglio desiderare 20 e possiedo 20. Nel momento in cui c'è il pareggio, diciamo così, tra queste due esigenze, tra l'esigenza di desiderare e l'esigenza di possedere, si esaurisce automaticamente, finisce automaticamente l'interesse. A meno che non si siano create già situazioni precedenti diverse, come ad esempio, a meno che precedentemente non si siano create delle situazioni in cui la persona, diciamo, aveva messo dei vincoli, no? E allora c'è un collante diverso. Ma come ad esempio, che ne so, ti sei sposato e allora è probabile che magari il desiderio e il possesso coincidano in certe circostanze, però non dovrebbe mai esserlo. Ma comunque c'è questo vincolo logico-razionale del matrimonio, magari figli, magari casa, insomma, per cui si creano vincoli logici. Ma soprattutto all'inizio di una relazione, quando non ci sono vincoli logici ancora, e ti suggerisco però se vuoi creare una relazione stabile e di imparare poi a mettere dei vincoli logici, piano piano ovviamente, vincolo logico è mi sono sposato, ho fatto due figli, abbiamo preso il mutuo della casa, eccetera, eccetera. Se la persona accetta quello, questo crea comunque un legame, che trattiene comunque la persona. Insomma, se uno fa delle scelte di un certo tipo, poi non è che si tira indietro, come dire, anche perché hai fatto degli investimenti. Il vincolo logico è accettato, prevede degli investimenti. Ma all'inizio di una relazione bisogna avere la capacità di allontanarsi. E quindi cosa bisogna fare? Beh, bisogna inizialmente, diciamo, dare, perché, non dico fare love bombing, perché love bombing è magari esagerato, però essere disponibili, essere presenti, eccetera, e questo ti farà accogliere dalla sua sfera logico-razionale. Questo è molto importante. La sfera logico-razionale non metterà degli ostacoli, non ci saranno nulla osta, diciamo. E quindi, e questo è importante, no? Perché la parte logica ragiona sempre per capire che cosa è giusto, insomma, che cosa preferisce. Se invece poi, dopo, succede che tu continui sempre a saturare, a dare esattamente a tutto quello di cui questa persona ha bisogno, nei tempi e nei modi in cui questa persona ne ha bisogno, quindi sei, praticamente, ti metti, per così dire, a disposizione, tra virgolette, di questa persona, delle sue esigenze logiche, dopo un po' la persona tenderà ad allontanarsi, perché avrai saturato. E allora quello che devi fare, da questo punto di vista, è creare un allontanamento. Devi iniziare ad allontanarti, diventare fredda, diventare, la tecnica si chiama freeze, gelida, insomma. Ecco, in questo modo questo ti consentirà di sedure. Ovviamente poi per ogni imprinting di tipologia emotiva, ma questo lo spiegherò, diciamo, nel seminario che farò il 24 settembre, sul canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Tramasco, quindi vatti subito abbonare a Seminare Online, non è su questo canale, ma è sull'altro mio canale, Felicità Benessere con Massimo Tramasco, tastino abbonati, vicino, tastino iscriviti, perché poi ci sono altre strategie per conquistare una persona, che sono quelle legate all'imprinting emotivo, come sfruttare tutto questo potenziale presente all'interno della persona. Ecco, questo, diciamo, però, se tu ti allontani, già dopo aver dato, perché se ti allontani subito, spesso inneschi i meccanismi di difesa, innescherai un dubbio nella persona, no? Se ti congeli, innescherai il dubbio, ma come mai si allontana, ma perché? E quindi andrai a innescare meccanismi fortemente proiettivi, per cui ci sono persone che tenderanno a viversi i sensi di colpa, quelli che già hanno un imprinting del senso di colpa, c'è chi tenderà a viversi di nuovo l'abbandono, chi ha l'imprinting sull'abbandono, chi la disistima, non valgo niente, cosa avrò fatto? Insomma, generi dubbi e lasci comunque delle gestalt aperte. Sappiamo che alla gestalt aperta, questo effetto che si chiama effetto Zeigarnik, beh, è molto seducente, molto seduttivo, perché se tu lasci una gestalt aperta, cioè una porta, una forma aperta, non definita, la persona, diciamo, non capisce perché capita questo, no? E quindi tenderà automaticamente a voler accertare, si innescano tutta una serie di meccanismi positivi per cui coinvolgi, per cui devi essere in grado, se vuoi sedurre, se vuoi conquistare qualcuno, di allontanarti. Ovviamente per fare questo non devi aver paura di perdere questa persona, qui c'è il lato, diciamo, il lato oscuro della medaglia, no? Ogni volta che io somministro un allontanamento, in realtà me lo autosomministro, questo dobbiamo tenerlo presente, e l'autosomministrazione spesso ci fa cadere, diciamo, dalla padella nella braccia, nel senso che se mi autosomministro un allontanamento, poi inizio da quel punto di vista lì a, diciamo, a vivermi anch'io queste cose, quindi bisogna aver avuto la capacità di superare i propri imprinting, perché altrimenti rischiamo di non essere in grado, cioè, so cosa fare, ma ho paura di farlo, perché poi vengono a noi tutti i dubbi, eh, ma magari se mi allontano allora lo perdo, se mi allontano poi magari succede questo, succede quell'altro, no? Ecco, per superare questo bisogna sbloccare il proprio imprinting, ed è quello che nel seminario sul canale Felicità Benessere con Massimo Terramasco, quindi vai sul mio canale YouTube, digita sul canale su YouTube Massimo Terramasco Felicità Benessere, insomma, il canale Felicità Benessere con Massimo Terramasco. E lì troverai il tastino Abbonati, che sta vicino al tastino Iscriviti, se non lo vedi con il cellulare, con l'app del cellulare, con il computer, e poi ti abboni selezionando Seminario Online. E lì parleremo proprio di imprinting, come gestire l'imprinting, e come acquisire questa forza interiore. E vedrai che sarà una grande capacità, perché si otterranno risultati stratosferici. Ovviamente iscriviti anche, naturalmente, al mio canale YouTube Massimo Terramasco, e ti ricordo che su questo canale ci sono diversi livelli di abbonamento.